Grazie, il suo ultimo intervento è Najet del coordinamento donne immigrati e il membro della consulta immigrati di Osimo. Voglio, colgo anche occasione di ringraziare a Najet e tutte le donne insieme con Najet che hanno preparato il tè e i dolcetti che li prendiamo dopo quando finiamo tutta l'assemblea. Grazie di nuovo Najet. Buongiorno, io mi sono conosciuto il intervento per questo che abbiamo fatto perché è un onore per noi che viene un rappresentante parlamentare marocchino e diciamo stranieri perché per me uno marocchino o qualche sia immigrato stranieri rappresentatori e veramente io voglio chiedere solo una cosa, se vogliamo fare una cosa dobbiamo fare davanti sempre l'obiettivo. non vedo questo da questa parte e questo dall'altra, se c'è Ed o Cesen o qualche sia o consulta o associazioni. L'importante è l'obiettivo, siamo per lo stesso obiettivo, dobbiamo lavorare per questo e dobbiamo avere la responsabilità e il senso della responsabilità perché io sto lavorando pure con una consulta, io sto facendo le assemblee, ho lavorato pure con il CGL, ho attaccato il manifesto a Osimo, a Osimo stazioni, ma si conto troppo, troppo persone. perché, non lo so, perché il senso della responsabilità non ce l'abbiamo negli sangui, vogliamo avere ma non vogliamo fare e quella è la cosa che dobbiamo cambiare e noi dopo vedremo che tutto si cambia davanti, grazie.